Buonasera a tutti, un saluto a voi che siete a San Giovanni Rotondo, un saluto speciale ai frati, vi ringrazio e saluto anche tutti voi telespettatori che ci state seguendo sia tramite social ma in televisione su Padre Pio TV. La tematica è il fioretto di cui volevo parlarvi oggi, è un fioretto molto particolare a me caro. Io ho la fortuna di avere i nonni ma mi rendo conto che vivendo una vita ringraziando al Signore impegnata tra studio e lavoro difficilmente riesco a dedicargli un po' di tempo. Loro ultimamente hanno iniziato ad utilizzare Whatsapp e quindi mi mandano ogni tanto qualche messaggio magari sgridandomi dicendomi Davide da un po' che non ti fai sentire e sinceramente ricevere questi messaggi da un lato mi fa piacere dall'altro sentono un po' la mia mancanza. Vorrei quindi come proposito e come fioretto almeno per una settimana riuscire ad andarli a trovare, magari anche semplicemente passare con loro un'oretta, non sarebbe male. Riuscirei così ad avere un po' di tempo con loro, non a caso loro sono coloro che hanno insegnato il bagaglio culturale ai nostri genitori che i nostri genitori hanno trasmesso a noi e che poi noi trasmetteremo ai nostri figli. Quindi sono una parte importante per la vita di ognuno di noi e vorrei stare con loro, passare del tempo con loro. Mi auguro di riuscirci e concludo augurandovi una buona serata.